PEGI 18 In questa città non tutti gli uomini sono nati uguali. Per secoli il popolo ha sofferto, oppresso da un'aristocrazia ignorante e decadente. La gente chiede a gran voce cibo, libertà e giustizia. Ma non avrà nulla di tutto questo se nessuno combatte in suo nome. Per questo inizierò la mia battaglia nell'ombra. È giunto il tempo della rivoluzione, di scrivere la storia, di essere uniti. Chiado? 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 Grazie a tutti.